Bene, e ora possiamo andare avanti con la trasmissione. Un secondo, eh, mi cambio di vestito, c'è una sorpresa per voi, un attimo. Eccoli qua, arrivata. Perdona, perché mai io ho indossato un abito così importante da regina, la regina delle carte? Ora viene la spiegazione. Perché in molti si sono lamentati la trasmissione di vertenze, ma manca il gioco, la competizione, nel rischio, abbiamo immesso il rischio. Tutti quanti, dalle vostre case, potrete partecipare a questo gioco fantastico. Finalmente, non sapevo più cosa dire, non sapevo più. È stato tremendo. Come andate l'intervento? È il rischio. Un rischio come? La canzone è piaciuta, ma il paziente è morto. Oh, mi spiace. Che bell'abito. Che bell'abito, che bell'abito. Da regina. Io mi vesto da regina. Sbrigatevi a vestiti. Mi sembrava strano. Sbrigatevi. Da che cosa ti vesti? Da maresciallo. No, no, da panna, panna. Devi fare il senzio di più. Fante, sei sicuro che è fante? Aia. Eccoci qua. Eccoci qua. Il re è fante. È fante. Siamo contatti. Anche delle carte. Guarda che carte. Il cinque, il tre cuori, l'asso, una base. Perché se non avrete capito, senz'altro, si tratterà di un gioco con le carte. Il poker. Il poker. Esattamente. Il poker. La telesina. Che cos'è la telesina? La telesina. Io? Sì. Aia, ma accidenti che... Mi hai dato un coltellato all'inno. Sono il giustiziere. Puoi spiegare che cos'è la telesina? È un poker. Sì. Però con una carta scoperta. E le altre tutte coperte. Cinque sono le carte scoperte. No, quattro. Quattro coperte. Quattro coperte e una coperta. Attenzione che ci stanno bravo. La coperta lo imparerete mentre giochiamo. Allora, siamo in diretta. Sul vostro teleschermo vedete in sovraimpressione il telefono al quale potete rivolgervi per parlare con noi e giocare con noi. È 0,2 per chi stesse fuori in Milano, 31,99 e 31,99 per quelli che stanno a Milano. Telefonateci. C'è un particolare. È un particolare. E i Montepremi... Montepremi... Direttore, scusi, ecco qua, scusi l'antimo. A quanto ammonta il budget per il gioco, per la scoperta? Perché noi giocheremo contro di noi. 10 milioni. Ma che 10 milioni? Ti stacco la testa. 10 milioni. Passo da Berlusconi. Se voi mi decideste ad accettare uno sponsor, allora potremmo disporre di metto milione. Niente sponsor, per favore, giocheremo con la miseria che ci offre la Rai.